Allora, avvocato Uvi, vuole sintetizzare brevemente, perché l'altra volta è stato possibile acquisire tutto. Io vorrevo sentire l'assessore e l'ingegnere Guido. Io avevo già... No, l'altra volta, abbiamo avuto dei problemi di carattere tecnico dovuti al sistema, era solo per questo. Ma se l'ingegnere Guido, perché l'assessore mi pare fosse impegnata in un costo con la regione, mi dice che ha acquisito le problematiche, per me va bene. Mi scusi, ricordo perfettamente, l'assessore non c'era, c'era l'ingegnere Guido e avemmo uno scambio rapido. Io avevo pregato, e prego ancora, i signori, l'amministrazione, l'assessore e il dirigente, a vedere i luoghi. Io sono stato per l'ultima volta ieri mattina, entrando da via Merine, facendo il rondò, imboccando quella strada, si accede di là e poi, andando dritto, mi accorgo che c'è una rete. Dall'altra parte ci sono marciapiedi, c'è tutta una viabilità completa, solo che è chiusa da mattoni. Quindi capire perché quella strada trova tanta delusione nella gente che non riesce ad andare avanti. Capire le motivazioni. Ho sentito parlare con alcuni dipendenti dell'amministrazione, di Culdesac, di tante cose, ma volevo capirne di più e più tecnicamente. Perché se mi si dovesse dire domani apriamo tre dieci giorni aperta, mi va bene. Ma se ha data da destinarsi, a me non va più bene. Grazie. Grazie, avvocato Muzi. Vediamo di capire quali sono i problemi attivati a questa richiesta. Non so se vuole parlare l'assessore Emilietta o l'ingegnere Guido. Dittemi voi. Presidente, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dico solo due cose. Io conosco la problematica perché era già stata più volte manifestata dall'avvocato Murri, ma non solo, naturalmente, dall'avvocato Murri, anche dai residenti. non ero a conoscenza di una commissione tematica su questo tema che si era già svolta. E quindi, diciamo, a me la convocazione della commissione è arrivata oggi su questo tema. Cioè, diciamo, qualche giorno fa, ma non ero a conoscenza di una commissione che si è svolta su questo tema perché, se c'è stata, non ne sono state informate. Questo perché mi sembra strano che non mi sia arrivata. Vabbè, forse non ero stata convocata. Io non venni, ricordavo che era sul Superbonus la commissione, e non certo sul Comparto 28. Quindi questo per capire se mi sono persa io qualcosa. Detto questo, allora, la lungaggine relativa alla possibilità per i residenti di attraversare pienamente quell'arteria che effettivamente noi vediamo esistere è perché un tratto di quell'arteria è fuori dal Comparto 28. Diciamo, è fuori da un'attività, quindi, di programmazione o pianificazione che sia dell'amministrazione comunale o che sia di un soggetto privato che sta realizzando il Comparto. Però, detto questo, noi quello che possiamo fare ma poi, diciamo, lascio la parola al dirigente per spiegare tecnicamente perché si è stratificata questa situazione è chiedere all'impresa se come strada di cantiere si può aprire quindi consentendo il transito veicolare però voglio ricordare che l'attività edilizia avviene all'interno di un regime normativo che scansiona tempi, prevede proroghe, garantisce l'impresa edilizia garantisce il diritto di un permesso a costruire e che le strade per essere percorse devono essere collaudate Siccome il comparto non si è ancora ultimato purtroppo quella strada attualmente non ha uno sbocco naturale perché fino a quando l'amministrazione comunale non entra in possesso delle urbanizzazioni che pure sono state realizzate e sono quasi ultimate noi non possiamo, questo io mi rendo conto che è burocrazia però queste sono le regole del gioco quindi diciamo i tempi che noi non possiamo certo modificare e quindi purtroppo siamo in presenza di un disagio non lo nascondo quello che si può fare è chiedere all'impresa se è possibile aprire la strada comunque come strada di cantiere però nella consapevolezza che quella è ancora una strada di cantiere per garantire lo sbocco a via Catanzaro verso via Lodi Posso, Presidente, mi scusi un attimo No, 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 un secondo, via che pazienza A me dispiace che l'assessore non abbia saputo perché la precedente commissione vuol dire l'era impegnata con la regione quindi abbiamo parlato con l'ingegnere Guido e Omar Zotta non ricordo bene poi ogni aspetto che gli uffici comunichino all'assessore il, no, il, diciamo, l'esito dell'inconsor che aveva solamente una caratteristica tecnica e avendo avuto dei problemi legati al sistema non avendo concluso avevamo ritenuto e lo aveva anticipato in quella di Ione di continuare e appunto a durandoci che ci sarebbe stato anche l'assessore va bene, do la parola all'Avvocato Burbi No, solo un attimo questo lo dico per completezza ai colleghi perché l'architetto, l'assessore Miglietta conosce bene i luoghi e quindi lo dico agli altri presenti capisco, è burocrazia ed è, sì, la città vive purtroppo e subisce anche la burocrazia è disagio e questo è notorio per tutta la gente che abita in quella zona è un comparto non ancora ultimato ne prendo atto le strade sono cose serie lì è tutto completato, è tutto completato asfalto i lavori pubblici hanno fatto il loro lavoro marciapiedi ma bisogna che due operai anche io solo se venisse autorizzato potrei spostare la rete e togliere quei manufatti quei tuffi che bloccano il transito il passaggio proprio una sola persona potrebbe farlo perché è tutto asfaltato non c'è da fare nulla se non togliere ma sono collaudate ma le strade sono collaudate non lo so non lo so non lo so non basta vedere bisogna poi vedere mi scusi ma ci passano le macchine ci vanno non lo so che cosa tecnicamente serve le macchine ci passano le macchine o ci passano o non ci passano se ci passano vuol dire che i residenti non hanno un disagio se non ci passano no mi scusi stando da il disagio c'è perché stando da questo lato con questi tuffi in mezzo li vedo passare le macchine devo avere l'accesso però grazie presidente posso intervenire un attimo quando possibile potrei intervenire anche io se credete sì una cosa velocissima ingegnere proprio riallacciandomi a quanto affermato dall'assessore giustamente l'assessore Emiglietta ci dice che le strade non sono state collaudate in quanto non collaudate non sono non sarebbero percorribili il motivo per il quale ci troviamo la strada chiusa vorrei ricordare però salvo che non mi stia sbagliando un altro comparto se non sbaglio il comparto dove dire Corrano chiedo scusa scusi non voglio togliere la parola ma voglio essere perché lei parlava e io mi ero silenziata non ho potuto dirglielo mi aveva chiesto e mi ha ritroverata l'onorevole Rotundo quindi chiedo perdono presidente io ho chiesto a lei non ho ricevuto risposta quindi ho continuato no perché ero silenziale no 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 non è colpa sua e quindi l'onorevole Rotundo poi scusano prego onorevole io non devo aggiungere molto però siccome come l'avvocato Murri abbiamo preso visione dei luoghi c'è sollecitazione di residenti ci sono anche delle aziende che subiscono i disagi di questa situazione e non è un fatto nuovo questa situazione dura da molto tempo cioè nel senso che le cose che diceva Murri la strada di fatto terminata i marciapiedi definiti dura da molto tempo questa situazione allora io che cosa chiedo? chiedo che nel rapporto con i cittadini ci sia trasparenza perché questi cittadini sono andati preverrinando per questo io ho chiesto la convocazione della Commissione perché i cittadini hanno parlato con tutti mi dicono mi dicono che hanno parlato di fatto con tutti con i nostri stilici non so se con gli amministratori hanno parlato con l'azienda con Mascia e hanno avuto risposte che sono sempre indefinite manca il collaudo la strada non esiste un cantiere vediamo allora io credo che sulla base delle cose che ha detto adesso Rita Miglietta l'assessore Miglietta noi dobbiamo fare questo tanto per rispetto verso noi stessi la Commissione e poi verso i cittadini noi dobbiamo verificare da qui a una settimana ai giorni che l'assessore Maurizio Guido ci chiede di verificare tecnicamente se è possibile una soluzione perché non pensi che oggi dopo un anno noi possiamo andare a dire manca il collaudo perché credibilità nostra è zero zero non nostra personale dentro del rapporto tra pubblica amministrazione e per questo io penso che se è possibile verificare attraverso Maurizio verificare l'amministrazione perché loro hanno parlato con me e da questo punto di vista non hanno avuto la soluzione se è possibile trovare una soluzione che sia quella che vogliamo strada di cantiere altra soluzione perché da quello che mi dice qualcuno se noi dovessimo aspettare la chiusura di cantiere e il collaudo Campacavallo che debba crescere i tempi veramente sarebbero molto molto lunghi quindi io credo adesso sentiremo l'ingegnere Guido che io sono perché la commissione che a questo punto vi ha mandato al dirigente per chiedere con l'azienda le possibilità di soluzione e da che a una settimana o a 15 giorni si riferisca in commissione sulle concrete ipotesi di soluzione del problema in maniera tale che a quei cittadini si dice si apre o mettere l'anima in pace da qui a un tempo indefinito perché bisogna approvare gli atti in consiglio comunale eccetera mettere l'anima in pace non si apre io solo per fare uno sforzo e per vedere con tutte le difficoltà che è giustamente di cantiere la miglietta di trovare una soluzione possibile grazie la parola a collega Scorrano così poi l'ingegnere ci darà tutte le risposte prego perché non silenzia tutti che ci sono sette microfoni aperti e cucciolo quando lo vede a vedere dottore Filippo aveva chiesto qualcosa ho detto ci sono ci sono un sacco di microfoni aperti perché non silenzia tutti così poi ti puoi dare la parola al prossimo a Scorrano insomma però prima silenzia tutti ma io non so da dove si silenzia allora vada a dove dice partecipanti clicchi su partecipanti un attimo partecipanti perfetto clicchi là sopra e poi esatto esatto perfetto vada passo sto schiacciato più silenzia tutti no non ha schiacciato perché stiamo ancora parlando poi deve fare sì deve fare silenzia tutti e poi deve fare sì perfetto grazie allora consigliere Scorrano prego grazie presidente non ripeto quanto già detto precedentemente quanto affermato dalla assessore Miglietta sarebbe corretto quantomeno in linea teorica se fosse valido per tutti io invece ricordo salvo che non stia sbagliando il comparto 60 comparto 60 per comprenderci è quello sulla via di Monteroni dove abita l'ingegnere consigliere Occhineri il collaudo delle strade di quel comparto come della Fogna come di altre cose non è stato mai eseguito ad oggi si cerca ancora di escutere le fideiuzioni dei lottizzanti e dell'impresa della Eros costruzione pur tuttavia quelle strade sono percolibili sin da subito mai completate a differenza di quelle del comparto 28 mai collaudate e quelle completate completate anche male tanto che sono state oggetto di varie commissioni lavori pubblici e commissioni controllo nella consigliatura 2012 2017 sono oggetto di interventi costanti da parte della Lupie perché si creano delle vere e proprie voraggini degli allagamenti eppure nonostante tutte le segnalazioni fatte dai consiglieri dai presidenti dai residenti quelle strade non collaudate salvo che non mi stia sbagliando sono aperte aperte alla circolazione dei residenti aperte alla circolazione dei non residenti aperte adesso non possiamo dire ci sono degli impedimenti burocratici per aprire la viabilità apriamo la come viabilità di cantiere vorrei rispondere al consigliere Scorrano grazie sì sì assessore è chiaro come deve rispondere ci mancherebbe non possiamo eccepire oggi impedimenti burocratici oppure pensare di aprire come viabilità di cantiere ancora peggio la soluzione aprire come viabilità di cantiere con viabilità di cantiere noi non apriamo perché viabilità di cantiere ci sarebbe un responsabile che sarebbe direttore lavori coordinatore della sicurezza di quel cantiere qui qualcuno si deve assumere le proprie responsabilità certo è che con strade completate a tutti gli effetti non è pensabile oggi di creare quest'ulteriore disagio ai residenti ma tutti i cittadini che cesi che dovessero percorrere quelle vie soltanto questo cioè la legge deve essere uguale per tutti se si è fatto altro in altri posti allora si deve poter fare anche in questi posti diversamente vanno chiusi andrebbe chiusa pure la viabilità di quel comparto che esiste ormai da dieci quindici anni solo questo va bene allora Lidia Paggiano e poi do la parola all'assessore prego consigliera Paggiano grazie presidente io ovviamente non posso fare altro che unirmi alle sollecitazioni che i colleghi hanno rivolto all'amministrazione comunale e i residenti hanno interpellato anche me come dissi già l'altra volta facendo presente anche la pericolosità della strada che per l'apertura che si prevede debba essere fatta previa ovviamente la verifica delle cause che ne hanno impedito fino ad oggi la percorrenza per intero loro facevano presente appunto che c'è un dosso che non è stato ripristinato a dovere ma oltre questo mi premeva sottolineare che questa è una strada molto vecchia che si che veniva denominata via donna Sibilla ed è una strada che era già asfaltata circa 20 25 anni fa questo ecco nei ricordi dei residenti che ovviamente vivono quella via da da lungo tempo tant'è vero che fu percorsa anche da condutture dell'acquedotto pugliese di Acquefogna a servizio del del villaggio Agave del complesso Agave quindi io credo che una verifica sia estremamente necessaria perché ci sono delle delle incongruenze che andrebbero chiarite oltretutto ripeto è stata fatta questa istanza all'assessore De Matteis e al comune di Lecce al dottor al nostro sindaco proprio per segnalare anche la pericolosità di questa strada che nel nuovo tratto che riguarda appunto l'intervento di asfalto che è stato realizzato è corredata di marciapiedi così come la norma vuole invece nel tratto diciamo storico che non è stato ripristinato è completamente manchevole di marciapiedi per cui anche oltre all'apertura verificare il grado di sicurezza di questa via della quale è stata denunciata le pericolosità per l'alta velocità che i mezzi raggiungono quindi io vi ringrazio se vorrete soluzione a questa tematica grazie presidente darei la parola all'assessore e poi all'ingegnere Guido prego assessore sì infatti io diciamo vorrei lasciare anch'io subito la parola all'ingegnere Guido però vorrevo dire che credo che non si possano paragonare con parti che hanno storie diverse il comparto 60 non è assolutamente nelle stesse condizioni del comparto 28 di cui a meno che io non stia sbagliando ma non credo non siamo alla scadenza della convenzione per cui ribadisco che l'amministrazione comunale è consapevole di questo disagio però mentre parlavo con voi ho consultato la tavola del PRG e lì purtroppo ci sono consumate un po' di varianti che hanno completamente alterato anche la viabilità di piano e quant'altro e quindi succede che quando diciamo si fanno delle modifiche che non sono ragionevoli che non sono razionali poi ci sono dei danni che hanno ripercussione ora io lascio la parola al dirigente perché può essere sicuramente più completo di me però mi sembra che non sia corretto paragonare con parti che per estensione e storie hanno condizioni veramente differenti tra loro scusi assessore allora un attimo un attimo vi ho la parola all'ingegnere Guido che in attenza ha già da parecchio prego ingegnere poi diciamo abbiamo tempo sì volevo collegarmi quindi a quello che ha detto l'assessore alla parte finale cioè il fatto che i due comparti hanno comunque una storia diversa ma anche nel comparto 60 le opere non sono mai state prese in carico le opere di urbanizzazione per cui ancora sono delle opere di cantiere allora volevo fare poi un po' di storia per quanto riguarda il comparto 28 cioè il comparto 28 è stato approvato nel 2003 nel 2003 non era prevista quest'opera il ricongiungimento della rete viaria del comparto con via Catanzaro cioè via Catanzaro doveva essere chiusa anche perché proprio in quell'angolino arrivava che era il progetto della regionale 8 cioè doveva arrivare la regionale 8 che poi invece è stata spostata successivamente al di là della tangenziale quindi il collegamento con via le opere di urbanizzazione sono state realizzate senza sono state autorizzate e sono state realizzate senza il collegamento di via Catanzaro per collegare via Catanzaro bisogna fare una variante al piano particolareggiato che i proprietari delle aree ci stanno presentando nel momento in cui sarà approvata sarà adottata e sarà poi approvata potrà essere realizzata l'opera di urbanizzazione della strada per ricongiungere alle altre strade del comparto in questo momento quindi via Catanzaro poi è stata aperta in maniera diciamo un po' strana probabilmente come diceva la consigliera Patanzaro sulla base di una strada preesistente ma era una strada che non era prevista dal piano regolatore nel momento in cui è stata sfantata non è stata fatta neanche una variante al piano regolatore per prendere atto di questa nuova strada che si intendeva aprire ed è stata poi tagliata appunto dal comparto 28 quindi oggi ci troviamo con sono state fatte sì lungo la strada anche le opere di urbanizzazione primaria c'è la fognatura come ricordava la consigliera Faggiano infatti è presente la fognatura la fognatura nell'interrato della strada nella parte sottostante la strada quindi in questo momento quel pezzettino si sta chiuso non ci vuole niente per aprirlo basta levare l'interriata però è semplicemente una strada di cantiere per cui non possiamo far altro che chiedere alla ditta se intende aprire questa strada come strada di cantiere noi ufficialmente quindi dobbiamo ancora consentire con l'approvazione del piano particolareggiato la riapertura di questa strada quindi non può essere presa in carico dall'amministrazione comunale chiedo scusa prego 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 sì grazie no è molto opportuna questa ricostruzione che ha fatto il dirigente Guido perché diciamo appunto mi dispiace per i disagi quotidiani dei residenti e mi dispiace anche che i residenti abbiano vagato per gli uffici le volte che ho parlato io con i residenti ho preso in carico l'impegno che fosse modificato il piano particolareggiato quindi diciamo l'amministrazione sta facendo quello che è nelle sue possibilità a fare ecco quindi anche perché come ha spiegato bene il dirigente Guido non era previsto da nessuna parte da nessun piano regolatore e che fino a prova contraria deve regolamentare le infrastrutture anche il collegamento di via Catanzaro ecco perché oggi ci ritroviamo io capisco un residente che vede un cantiere vede qualcosa a portata di mano e dice ma perché non ci posso andare è perché ci sono ragioni purtroppo errori che si stratificano e che diciamo non è non si risolvono con uno schiocco di dita ok forse la consigliera Faggiano voleva aggiungere qualcosa sì presidente volevo volevo semplicemente un chiarimento quindi chiedo all'ingegnere via donna Sibilla che era per intero la via che congiungeva via Marine con la zona attualmente del comparto 28 quindi era una via interamente non contemplata all'interno del PRG perché i residenti mi dicevano che loro erano andati a guardare le tavole e l'avevano vista questa via quindi aveva un tracciato diverso di mia confusione vorrei che mi fosse chiarito questo aspetto il tracciato previsto Maurizio scusami perché ce l'ho davanti il tracciato previsto dal PRG era differente quella è una strada di campagna era una strada di campagna lo si capisce dall'andamento tortuoso d'altra parte molte residenze sono dei grumi lì non sono tutti comparti quindi diciamo quello che si sta facendo adesso col comparto è una cosa buona certo ma non era non era una strada di piano non era una strada di piano la strada di piano aveva tutt'altro andamento ma il piano è stato completamente modificato da una serie di trasformazioni che ci sono state negli anni compreso il complesso Agave che è stata una variante che non si sono sempre preoccupate della chiusura della del sistema del diario e quindi della sua razionalità però si è provveduto anche adesso a prendere l'impegno a modificare il piano particolareggiato inserendo il collegamento di un pezzo di strada con via Catanzaro proprio per chiudere diciamo il cerchio grazie e per quanto riguarda l'altro problema che avevano posto i cittadini in merito alla sicurezza con il rallentatore che capisco attiene diciamo al settore traffico però visto che siamo in commissione che suppongo si farà di tutto per riaprire completamente al traffico questa strada cosa si può fare per un ripristino che è una cosa semplicissima suppongo che però comunque serve a dare ulteriori garanzie di sicurezza a chi percorre questa strada e che una volta aperta potrebbe avere un va bene consigliera Faggiano vuole dare la parola a chi non ha parlato mi scusi no prego perché dove non era stata data risposta no no va bene e allora De Matteis buongiorno a tutti allora dal punto di vista tecnico non c'è nulla da dire assolutamente per cui sono sicuro che appunto gli uffici l'assessore si interfacceranno perché penso sia l'unico modo appunto così come hanno detto con l'impresa per chiedere magari una consegna parziale anticipata di quel tratto di strada che potrebbe in qualche modo diciamo salvaguardare capo e cavolo per cui sicuramente buoni rapporti con l'amministrazione dell'impresa aiuteranno spero aiuteranno a risolvere questo problema quanto più velocemente possibile già che visto che stavo parlando del comparto 28 volevo chiedere se possibile anche un'altra cosa mi sembra ne ha accennato la consiglia Faggiano via della cavalleria che penso rientri in quello che è il comparto 28 a fine di via all'inizio la cavalleria è stata realizzata una rotatoria con dei lungersi in plastica che diciamo io perché abito di vicino ma anche sollecitato mi chiedono quando verrà fatta la viabilità definitiva in quella zona anche perché arrivano veramente a velocità impossibili soprattutto di sera ma anche di giorno gli incidenti sono il numero di incidenti indescrivibile con pericolosità perché mancanza di segnaletica mancanza tutta una serie di problematiche anche orizzontali e quindi penso che quella rientri quella rotatoria rientri in quelle che sono le opere di urbanizzazione da parte dell'impresa per cui essendo già stata aperta mi chiedo se non può essere completata definitivamente o se quella è la diciamo la struttura definitiva sapere se è la struttura che non penso se appunto può essere dato atto a quella che sarà poi la struttura definitiva la sistemazione definitiva dell'area proprio perché ora così come è pericolosa solo questo grazie la parola brevemente l'onorevole Lottundo così poi diamo la possibilità all'ingegnere Guido di dare ulteriori delucidazioni anche alla luce delle mancate risposte che riteneva aver avuto la consigliera Paggiano prego l'onorevole Lottundo io adesso lei ne avevamo già parlato se noi dobbiamo seguire l'inter del piano particolarizzato della variante credo che l'esasperazione dei cittadini che già a livello molto alto non lo so io penso che comunque dobbiamo dare una risposta ma la risposta è una risposta in termini immediati noi possiamo dire perché questa risposta che siamo particolarizzati della variante vi è stata già detta ma una risposta tra l'altro che nessuno di noi adesso è in grado di prevedere dei tempi ma parliamo di anni secondo me perché se noi dobbiamo andare al piano particolarizzato parliamo di anni quindi io penso che noi dobbiamo dare mandato soprattutto al dirigente perché dei rischi con Mascia tra l'altro Mascia è un nostro interlocutore non solo in quell'area ma anche in altre aree dovrà in qualche misura comprendere che si deve far carico di dare una soluzione che riguarda un pezzo della nostra città e il disagio dei nostri concittadini verso i quali l'amministrazione comunale è impegnata a dare risposte positive quindi io chiederei che nel rapporto con Mascia si dicesse voglio dire che l'amministrazione comunale cerca una soluzione perché io sono stato mi hanno fatto un giro per vedere un cittadino residente per collegarsi alla città a parte di parte che sono delle aziende che subiscono un danno un disagio ma il cittadino fanno 10 chilometri per raggiungere una località che con l'apertura di quella strada noi abbatteremmo diciamo in maniera per cui io chiedo il tempo necessario ma da prima una settimana di andare ad un aggiornamento della commissione che era presidente nella tale che noi su questo diciamo un punto definitivo grazie dopo le teste voglio dire dopo 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 l'ampefana d'accordo allora ingegnere Guido vuole aggiungere qualcosa così poi dopo concludiamo i lavori prego ingegnere Guido sì allora volevo partire dalla rotonda dall'ultima ricchezza che riguarda la rotonda via Lodi via della Cavalleria allora quella lì non era stata prevista nel piano particolare per cui fa sempre parte della variante quindi è stata posizionata provvisoriamente farà parte dell'opera extracompatto della cosiddetta urbanizzazione indotta per cui appena verrà approvato poi verrà realizzata e per quanto riguarda la strada via Catanzaro la vecchia strada via Catanzaro era stata aperta nel attorno agli anni non so 2004 2005 e cortesemente spegnete i microfoni perché sennò la voce del dirigente non si sente bene allora via Catanzaro parla con qualcun altro e impedisce di sentire bene la voce del dirigente forse l'onorevole rotondo si ma l'onorevole si per favore si può spegnere i microfoni anche del collega perché si sente la sua voce e non ci impedisce di sentire la voce del dirigente così le può rispondere grazie mille Maurizio accendi il microfono sì scusate allora via Catanzaro è stata realizzata nei primi anni 2000 è stata realizzata in maniera difforme rispetto al piano regolatore appunto su una strada su una strada probabilmente che andava in zona agricola preesistente ed era l'unico collegamento che vi era tra via Lodi e via Merine cioè il piano regolatore prevedeva il proseguimento di via Lodi che nel frattempo è stato realizzato per cui adesso c'è un collegamento diretto tra queste due strade cioè via Lodi arriva sino a via Merine quindi via Catanzaro è un di più che non è conforme al piano regolatore ma che comunque esiste e che i residenti vogliono vedere quindi però per adesso c'è l'unica cosa che si può fare è aprirla come strada di cantiere cioè non è mai stato approvato un piano particolarizzato che prevede il ricontingimento di via Lodi per cui è vero che i tempi saranno lunghi non dipendono neanche dall'amministrazione comunale dipendono anche dalla presentazione della variante al piano particolarizzato da parte del privato e però purtroppo queste qui sono le regole quindi o si apre come strada di cantiere con il bene placito dell'impresa oppure non si può prendere in carico in questo momento non ci sono alternative per cui è chiaro che assieme all'assessore ci faremo parte attiva nei confronti dell'ingegner Mascia della proprietà per vedere se è possibile aprirla però è l'unica strada percorribile in questo momento cioè non può essere presa in carico perché ancora non esiste come opera di urbanizzazione poi non so per quanto riguarda i dissuasori non ho capito se si trattava di mettere i dissuasori su via se la richiesta dei residenti fosse di mettere i dissuasori su via Catanzaro oppure su via Lodi quello esistente allora ingegnere il DOSO già esiste e fu installato circa 10-15 anni fa ed è esattamente su via Catanzaro su via Catanzaro e fu installato su richiesta dei cittadini che ovviamente vedevano queste auto sfrecciare ad alta velocità perché all'epoca forse era ancora aperta via Catanzaro per intero comunque sfrecciavano ad alta velocità quindi fu posto questo DOSO poi successivamente in seguito dei lavori di manutenzione del manto stradale il DOSO invece di essere smontato e rimontato dopo il ripristino dell'asfalto è stato mezzo coperto dall'asfalto per cui viene meno la sua funzione di rallentamento dei veicoli che passano sopra a questo DOSO che prima era correttamente montato e quindi svolgeva la sua funzione appieno attualmente ci passano sopra comunque ad alta velocità e quindi diciamo va garantita la sicurezza perché quella strada appunto via Catanzaro non ha neanche marciapiedi e quindi va tutelata la sicurezza a maggior ragione se si prevederà l'apertura quindi con una lunghezza viaria nettamente superiore a quella attuale il rischio della velocità elevata va a incidere ulteriormente su quella che è la tutela della sicurezza dei cittadini che la dovessero percorrere in bicicletta a piedi oppure attraversandola per immettersi ed uscire dai locali di proprietà dalle aree di proprietà ecco questo vi chiedevo l'altra volta sono riuscita anche a condividere una foto che attualmente non sto riuscendo a condividere però non possiamo dare una risposta perché è una strada al di fuori del compatto quindi probabilmente è da richiedere all'ufficio traffico sia la richiesta dei cittadini era stata infatti inoltrata al sindaco e al dottor De Matteis il nostro assessore alla mobilità per cui credo debba essere concordato diciamo l'intervento ma è necessario grazie presidente posso dire posso fare un brevissimo intervento non la sento presidente prego assessore no volevo rispetto grazie grazie presidente no rispetto allora mi sembra che conveniamo sulla opportunità di verificare con l'impresa la possibilità di aprire come strada di cantiere ribadisco strada di cantiere anche perché vorrei che tutti ci ricordassimo che i privati costruttori sono interlocutori senza dubbio ma i rapporti tra la pubblica amministrazione e i costruttori sono all'interno di convenzioni e che quindi perché altrimenti sarebbe facile se tutto si potesse diciamo modificare velocemente sulla base di così accordi informali o quant'altro ci sono delle convenzioni che regolano i doveri e i diritti i doveri e i diritti delle imprese i doveri e i diritti della pubblica amministrazione e diciamo all'interno di quelle si muove l'amministrazione comunale quando bisogna risolvere problemi sopraggiunti per cause non imputabili in questo caso a questa amministrazione bisogna cambiare le convenzioni e quindi il procedimento è lungo perché come ha detto molto bene il dirigente queste sono le regole del gioco anche perché se voi andate a vedere la tavola di piano regolatore e lo sviluppo che c'è stato successivamente cosa che immagino i residenti ben sapranno c'è qualcosa che non quadra e quindi le strade non cadono dal cielo e quando vengono realizzate all'interno di un comparto devono essere devono essere scritte in una convenzione che regola i rapporti altrimenti se succede qualcosa come fa l'amministrazione a difendersi sulla base di quale presupposto no? ecco giusto assessore la ringrazio ringrazio l'ingegnere Guido io direi di riconvocarci alla luce delle richieste ma anche della manifestata buona volontà almeno per rendere noto ai residenti di quella zona un po' quelle che sono le difficoltà è quello che si può fare è evidente che non è solamente una assenza di volontà ma sono delle difficoltà sicuramente di carattere oggettivo e prima di salutare a tutti vi dico che l'unico assente è Boggia tutti gli altri sono stati segnati come al solito ogni mandato è richiesta quella che è stato che vi inopferò tramite Whatsapp un saluto a tutti e buona giornata buona giornata a tutti buongiorno a tutti